Ehi bella gente, benvenuti sono Panic, io sono Marco, come sempre iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e spuntate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video, questo va anche alla fine, non vi preoccupate finite le ferie? Io da mo' me ne sono già dimenticate da un pezzo ma oggi parliamo di come ottimizzare il tempo appunto dopo le ferie visto che un po' tutti siamo tornati al lavoro sigla in un'era in cui ormai siamo sempre di corsa, dobbiamo fare mille cose contemporaneamente ma soprattutto siamo bloccati nel traffico in continuazione una cosa che riusciamo a fare in ferie e che non riusciamo a fare quando siamo al lavoro quando siamo nella vita di tutti i giorni è sicuramente leggere io una volta leggevo, non tantissimo, non in maniera esagerata ma leggevo mia moglie leggeva un botto, da quando abbiamo dei figli è diventato un'utopia se la sera riesci a mettere a letto i figli abbastanza presto o crolli senza neanche accorgertene rischiando anche di sbattere la testa per terra oppure ti metti davanti alla tv e crolli pian piano questo per dire che se avete i figli è ancora più difficile leggere e trovare del tempo per se stessi ma fateli figli, non vuole essere un messaggio contro il fare figli, noi ne abbiamo due per continuare a far volare la fantasia e a immaginare i mondi descritti dagli autori dei libri vengono in nostro aiuto Audible, Storytel o tanti altri modi per ascoltare i libri gli audiolibri sono appunto dei libri letti da qualcun altro è un modo particolare di continuare a leggere oddio c'è anche una disputa, non si tratta effettivamente di leggere, si tratta di ascoltare però si riesce comunque a immaginare i mondi descritti dagli autori e a sfruttare quei tempi morti forse non di completo relax come sarebbe leggere un libro leggendolo in prima persona ma sicuramente sfruttare momenti in cui si sta facendo altro se anche la possibilità appunto di continuare ad aumentare la propria cultura e a togliersi l'ospizio di sentire una storia se siete dei pendolari e andate spesso ad esempio in macchina e non avete la possibilità di leggere salvo fare un incidente ecco ad esempio mentre si guida non è il caso di leggere ad esempio per non mettere in pericolo se stessi e gli altri e neanche di registrare i video in realtà potete sfruttare gli audiolibri per utilizzare quel tempo tra virgolette morto che altrimenti non sfruttereste per far niente se non prendervi il nervoso di essere bloccati nel traffico un altro ottimo uso degli audiolibri sono gli audiolibri per i bambini un'altra ottima cosa sono gli audiolibri per i bambini infatti i cataloghi sia di Audible che di Storytel ma anche appunto su Youtube le presentano moltissimi titoli dedicati ai più piccoli ad esempio magari quando si è in viaggio in macchina il bambino sclera gli si mette una storia e viene distratto e acquietato e calmato da appunto sentire che ne so le storie del suo eroe preferito piuttosto che magari qualche volta utilizzarle per la storia della buonanotte mia moglie ad esempio adesso meno però li ascoltava soprattutto quando allattava la nostra piccola e ottimizzava quel tempo, ottimizzava quel tempo morto in cui altrimenti era bloccata e non poteva fare altro ci sono diversi modi come dicevo per ascoltare gli audiolibri i più famosi e commerciali sono appunto Audible che è un servizio di audiolibri di Amazon e Storytel che è un altro servizio di audiolibri sinceramente non so di chi le differenze tra i due servizi a pagamento sono praticamente nulla se non nel catalogo perché alcuni titoli sono in esclusiva per Amazon per Audible o in esclusiva per Storytel ad esempio per il resto bene o male sono simili il prezzo è di 9,99€ al mese per tutti e due un'altra differenza è che Audible ad esempio ti dà 30 giorni di prova gratuita mentre Storytel te ne dà 14 io uso Audible nello specifico perché approfittai di un'offerta che me lo faceva pagare 7,99€ invece di 9,99€ risparmio qualche euro al mese Audible essendo un prodotto di Amazon spesso magari cade in promozioni legate ad Amazon che vuole appunto spingere gli altri sui servizi sapete che Amazon dal commercio elettronico ci guadagna veramente le briciole rispetto ai soldi che fa con altri servizi detto questo quale scegliere potete scegliere quello che volete se non volete spendere dei soldi ci sono dei modi anche per ascoltarli gratuitamente che non vuol dire scaricarli da internet in maniera illecita come voleva fare una mia collega tale Trotti che saluto sicuramente ci sta guardando ciao Trotti ci sono moltissimi audiolibri su YouTube forse c'è qualcosa anche su Spotify ma non ho indagato più di tanto sinceramente ci sono libri sul sito di Rai Radio 3 che ogni sera se non sbaglio alle 17 fa un programma dove appunto trasmette degli audiolibri su YouTube ad esempio però il problema è che se non hai l'abbonamento a YouTube Premium devi tenere aperto YouTube e soprattutto devi consumare la connessione dati se sei in un posto dove non prende questo potrebbe essere un problema il bello ad esempio invece delle app di cui parlavo prima Storytel è Audible e che appunto non consumi giga perché quando scarichi e decidi di scaricare quel titolo ti viene scaricato in locale e quindi puoi ascoltarlo anche se non hai connessione un altro servizio di cui vale la pena parlare per i libri più però di business è 4books che è una startup un'azienda del famosissimo Marco Montemagno che andrò a taggare tanto non lo guarderà mai sto video che appunto ti dà la possibilità di leggere tra virgolette o meglio ascoltare sempre tra virgolette dei libri condensati nel senso che 4books riassume i concetti dei libri di business per renderteli più veloci da sentire, da memorizzare e quindi ti riepiloga in pratica delle pillole dei libri se non sbaglio in 20 minuti una cosa del genere è un servizio che sinceramente non ho provato, chiedo venia ma lo proverò ne parlerò magari su Instagram in Italia il trend degli audiolibri è in netta crescita così come quello dei podcast sui podcast magari faccio un altro episodio comunque sono una cosa simile, sono sempre delle cose da ascoltare ma non è una narrazione come quella della lettura di un libro dicevo il trend è in netta crescita anche se non ancora ai livelli di Stati Uniti e altri paesi e ad esempio in Germania ci sono addirittura degli spettacoli come dei concerti dove ci sono degli autori che leggono dove voglio arrivare quindi oggi? voglio arrivare al fatto che appunto se volete, non avete tempo di leggere ma volete comunque continuare ad ascoltare, a farvi la vostra fantasia come ho detto prima e a farvi una cultura perché ricordiamocelo i libri sono cultura potete sicuramente trovare un alleato negli audiolibri magari iniziate con YouTube che può essere gratuito ci mancava il cane ci mancava un cane, non è neanche il mio scrivetemi nei commenti se già lo utilizzate, se vi piace se l'avete provato e vi è piaciuto o non vi è piaciuto insomma fatemi sapere nei commenti iscrivetevi al canale e spuntate la campanella se non l'avete ancora fatto per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video noi ci vediamo al prossimo video voglio dire un'altra cosa? iscrivetevi, lasciate un commento ah sì, se il video vi è piaciuto mettete un like qua sotto e poi se mi volete iscrivere, mi volete contattare vabbè mi potete trovare via mail a marco.nopanictv.it oppure al canale Telegram nopanictv e poi seguitemi sui social se vi va che lì parlo di altre cose, metto altre robe nopanictv underscore sia su Facebook che su Instagram ciao adesso ascoltiamo una bella storia ed è dubbio prendi e riaccendi